Finalmente è arrivato il parere dei revisori e dimostra quello che noi abbiamo cercato di dire in questi giorni. Il bilancio con questo parere è a nostro avviso illegittimo in quanto gli stessi revisori sottolineano che manca il piano di rientro. Un qualcosa che avevamo sostenuto nel corso di questo dibattito e di questo confronto. Di più il collegio, dice e scrive, non ha elementi sufficienti per poter consapevolmente dare il suo parere in merito alla congruità degli stanziamenti. Lo abbiamo detto, la fretta, purtroppo la incapacità di questo governo regionale Marsilio, di questa giunta lenta, ha portato il Consiglio regionale ad avere il parere l'ultimo giorno utile senza, ed è la prima volta che accade, aver potuto fare una discussione all'interno delle commissioni. Continuiamo a sottolinearne la illegittimità e allo stesso tempo a dire che hanno cannibalizzato ben 41 milioni di euro di scadenze e di cartolarizzazioni. Hanno detto addio al taglio delle tasse, cancellando la norma sul taglio delle tasse. Hanno prodotto un disavanzo sulla sanità. Una mobilità passiva con migliaia di abruzzesi costretti ad andare fuori regione e abbiamo abbattuto la soglia dei 100 milioni di euro di saldo della mobilità. Taglio ai trasporti e al diritto allo studio. Purtroppo tutto questo è il resoconto di tre anni di governo della giunta Marsilio. Lotteremo ancora in queste ore e al Consiglio regionale, ma i revisori purtroppo non possono che sottolineare quello che avevamo detto sin dall'inizio. Manca il piano di rientro ed è un fatto essenziale per le norme statali per poter procedere all'approvazione del bilancio.